Enrico Pagani ha vinto la seconda tappa del Giro delle Regioni con una lunga azione solitaria di circa 40 km. Enrico Battagli in secondo a 27 dal connazionale ha mantenuto la leadership della classifica, terzo di tappa il bielorusso Papoc. E partita alle 11 la seconda tappa del Giro delle Regioni, San Piero in Bagno, acqua partita di 154 km. Al via 118 corridori in rappresentanza di 22 squadre nazionali. Alla Gran Premio di Montagne di seconda categoria di Sant'Agata, Feltria passa per primo Team Wellness Belgio. Al traguardo volante di Nova Feltria è ancora Wellness in testa davanti ad Angelo Pagani e l'attuale leader della classifica Matteo Mannini che così rafforza il proprio primato. L'azione solitaria di Wellness è partita sullo slancio del primo Gran Premio della Montagna in località Botticella di Sant'Agata, Feltria. Il suo vantaggio nei confronti del gruppo tirato dall'Italia B del leader Enrico Battagli in è stato di 1,20. Queste le nostre immagini nel passaggio in Valmarecchia. L'azione solitaria di Sant'Agata L'azione solitaria di Sant'Agata L'azione solitaria di Sant'Agata